Leonardo da Vinci, il genio del rinascimento Leonardo da Vinci è considerato uno dei più grandi geni della storia. Artista, scienziato, inventore, ingegnere, anatomista, pittore, scultore, musicista, architetto e poeta, Leonardo ha lasciato un'impronta indelebile su molti campi del sapere. Nato a Danchiano, un piccolo villaggio nei pressi di Vinci, in Toscana, nel 1452, Leonardo era il figlio illegittimo di un notaio e di una contadina. Fin da piccolo, dimostrò un'intelligenza e una curiosità fuori dal comune. Nel 1466, Leonardo si trasferì a Firenze per studiare arte presso la bottega di Andrea del Verrocchio. Qui, divenne uno dei più promettenti allievi del maestro, e si specializzò in pittura, scultura e architettura. Nel 1482, Leonardo si trasferì a Milano, dove fu assunto dal duca Ludovico il Moro. A Milano, Leonardo realizzò alcune delle sue opere più famose, tra cui La Vergine delle Rocce, Il Battesimo di Cristo e il Cenacolo. Nel 1516, Leonardo si trasferì in Francia, dove fu assunto dal re Francesco I. In Francia, Leonardo continuò a lavorare a diversi progetti, tra cui il Mona Lisa, che è considerata uno dei più grandi capolavori della pittura occidentale. Leonardo morì ad Amboise, in Francia, nel 1519. L'arte di Leonardo. Leonardo da Vinci è considerato uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. La sua pittura è caratterizzata da una grande attenzione al dettaglio, da un uso sapiente della prospettiva e da un'espressione emotiva profonda. Le sue opere più famose sono, L'Ultima Cena. 1495-1498, un'opera imponente che raffigura l'episodio biblico dell'Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli. La Gioconda 1503-1519. Un ritratto enigmatico di una donna che è considerato uno dei più famosi dipinti al mondo. La Vergine delle Rocce 1483-1495. Un dipinto che raffigura la Vergine Maria con Gesù Bambino e San Giovanni Battista. Il Battesimo di Cristo 1472-1475. Un dipinto che raffigura il Battesimo di Gesù Cristo da parte di Giovanni Battista. Lo scienziato e l'inventore. Leonardo da Vinci era un genio anche nel campo della scienza e dell'invenzione. Era un grande osservatore della natura e dei suoi fenomeni. E le sue opere scientifiche sono ancora oggi fonte di ispirazione per gli scienziati di tutto il mondo. Leonardo ha compiuto importanti ricerche nel campo dell'anatomia, della meccanica, dell'aeronautica, dell'idrodinamica e dell'ottica. Ha anche progettato diverse macchine innovative, tra cui un elicottero, un carro armato, un aereo e una macchina per volare. Tra le sue invenzioni più famose ci sono, carro armato 1485. Un veicolo corazzato che poteva essere utilizzato per attaccare le fortificazioni nemiche. L'elicottero 1480. Un veicolo aereo che poteva sollevarsi in aria grazie alla forza di rotazione delle pale. Il sottomarino 1500. Un veicolo subacqueo che poteva essere utilizzato per esplorare i fondali marini. La macchina per volare 1488. Un progetto di un velivolo che poteva essere utilizzato per volare. L'eredità di Leonardo. Leonardo da Vinci è una figura emblematica del rinascimento italiano. La sua intelligenza, la sua creatività e la sua curiosità hanno avuto un impatto profondo sul mondo dell'arte, della scienza e della tecnologia. Le sue opere sono ancora oggi fonte di ammirazione e ispirazione. Grazie a tutti.